Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 rallentamenti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e Firenze-Scandici in direzione Bologna. Sulla FIPILI personale su strada tra Empoli-Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Chiuso lo svincolo di Interporto Toscano-Est in entrata in direzione Livorno e in uscita provenendo da Firenze per lavori. Sulla Statale 1 Aurelia chiusa una corsia per lavori tra Donoratico e Cecina Sud in direzione Genova. Sulla Statale 3 bis Tiberina Prudenza per fondo stradale di Sestato tra Val Savignone e San Carlo. Le ricordiamo che oggi è in vigore uno sciopero di 24 ore nel settore trasporti, possibili disagi per chi si muove con i mezzi pubblici. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!